Dall'Olimpo, e questo è il titolo della mostra personale di Silvia Caini da Mantua, una mostra meravigliosa all'Arca. Grazie, sono qui contestualmente alla bellissima festa che è in preparazione e che inizierà domani sullo sport. Le mie opere, che sono tele a olio, quindi grandi tele a olio di grandi dimensioni, dialogano con questo concetto di sport che ha origini antiche. Quindi abbiamo scomodato l'Olimpo per ricordarci un pochino che lo sport viene dall'antica Grecia. Come nasce l'idea di rappresentare per l'appunto gli sport? Io ho una cultura umanistica, quindi vengo da studi umanistici a liceo classico, dove la cultura greca e latina erano praticamente il pane quotidiano. Quindi da lì muovo un po' la mia ricerca artistica che va nella direzione filosofica di una ricerca che va all'essenziale, che quindi passa attraverso il gesto atletico, perché nel gesto atletico si compie un'impresa eroica. Un salto arriva all'acme, quindi in greco il punto massimo di una curva in evoluzione e poi scende in questo bianco che per me è un bianco di energia, è un bianco spirituale, è un bianco dove ci si perde. Ed è bellissima questa location, ringrazio l'amministrazione comunale perché queste pareti bianche sembrano casa mia, mi sento a casa, con le mie tele sono a casa, quindi grazie anche all'amministrazione comunale e al socio culturale che sta coordinando poi i progetti artistici in questa città.